Grazie a tutti. I 5 erano stati presentati anche degli emendamenti che dovevano eventualmente essere presi in considerazione dai politici di questa regione. Sicuramente è una legge molto completa, forse troppo completa, come di solito noi sappiamo fare le cose. Mi verrebbe da dire che dopo che i buoi sono scappati dalla stalla noi proviamo a chiudere le porte. Perché? È una legge che si occupa soprattutto di tossicodipendenza ma nello specifico in modo particolare del crack. Perché è nata questa legge? Questa legge è nata sulla pressione di varie associazioni come SOS e Ballarò, è nata con la pressione della Casa di Giulio che è un'associazione nata dalla morte di un ragazzo, un giovanissimo ragazzo per crack e da altre. Dicevo che è una legge sicuramente molto completa, però pecca nell'ammontare dei soldi che sono stati messi a disposizione per questa legge, per l'applicazione di questa legge. Sono soltanto 11 milioni e 2, credo. E per tutto quello che prevede la legge, francamente mi sono sembrati un po' pochini. Poi, non lo so, magari ci saranno altre aggiunte in futuro. Dicevo che è una legge molto completa, forse troppo. Forse troppo perché? Perché prevede camper, uno per ogni provincia, camper con specialisti a bordo, medici, assistenti sociali che dovrebbero posizionarsi nei luoghi di ritrovo dove i ragazzi si riuniscono e quasi sicuramente in quelle zone, in quelle aree girano le sostanze tossicologiche. La sostanza tossicologica che oggi ha creato questo allarme diffuso è il crack. Che cos'è il crack? Tutti sentono parlare del crack, ma magari pochi sanno cos'è. Non è altro che una, è la cocaina, tra virgolette, cucinata, è addizionata con ammoniaca oppure con bicarbonato di sodio. Questa associazione fa sì che la cocaina si cristallizzi. Ecco, questi cristalli, che sono piccolissimi, sono quelli che i ragazzi poi fumano. Era nata in America per tutta una serie di situazioni pensando di diminuire, di ridurre un po' quelli che erano i danni della cocaina sniffata. E hanno messo in giro una bomba, non rendendosene conto. Perché? Perché è una sostanza che dà una fortissima suefazione. Quindi nel breve tempo di qualche settimana hanno bisogno di aumentare le dosi. Ed è una sostanza che alla fine crea degli stati psicologici parecchio aggressivi. Quindi è una sostanza che tira fuori l'aggressività dei ragazzi, tanto da sfociare in patologie psichiatriche. Quindi passiamo dalla dipendenza da stupefacente alla malattia psichiatrica vera e propria. Esatto. Infatti una delle cose più importanti che mancavano in Sicilia erano i centri di doppia diagnosi. Cioè quei centri dove i ragazzi vengono inviati per essere curati sia da un punto di vista della tossicodipendenza, sia da un punto di vista psichiatrico. È ovvio che a fare fronte a questa situazione fino ad oggi sono stati gli SPDC, i centri di psichiatria ospedalieri, che non sono attrezzati giustamente per poter far fronte a questo tipo di patologia, cioè a ragazzi con dipendenze patologiche, che sono diversi dai ragazzi puramente psichiatrici. Questa legge prevede la formazione, la nascita di diversi centri di doppia diagnosi. E speriamo che questo ovviamente avvenga e che non rimanga soltanto sulla carta. Una cosa che mi ha colpito è che si parla in questa legge di esperti, 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 esperti che dovranno fare questo, esperti che dovranno fare quello, esperti che dovranno fare l'altro, ma francamente io non so dove andranno a trovare tutti questi esperti. Tanto è vero che lei che è stato fino a poco tempo fa poi andato in pensione direttore del SERT di Ribera, ci conferma che i SERT, parliamo di noi, dell'aspe di Agrigento, sono senza medici. Sì, io è da un anno esatto che sono in pensione, nonostante continuo ad occuparmi di prevenzione, ad andare nelle scuole a titolo gratuito, l'ho preciso, non sono stato sostituito. Il collega di Sciacca, che è andato in pensione anche lui, non è stato sostituito. Il collega di Licata non è stato sostituito. A Canigatì c'è un medico a scavalco tra la salute mentale e il SERT. Ad Agrigento sono rimasti soltanto due medici. I SERT, ma non è un problema solo dell'aspe di Agrigento, è un problema regionale. I SERT si sono svuotati di medici di figure professionali importanti. Tra l'altro in questa legge i SERT hanno un ruolo marginale. Dovrebbe essere centrale, possiamo dire? Sicuramente, perché è l'unico servizio dove c'è l'esperienza, dove si trova l'esperienza, dove i professionisti che hanno lavorato o che lavorano all'interno di questo settore hanno avuto e hanno giornalmente contatto con i tossicodipendenti. Cioè, io ho lavorato 30 anni in mezzo ai tossicodipendenti. Mi posso considerare un tossicodipendente senza aver fatto l'uso di sostanze, ma sicuramente conosco la loro mentalità. So come ragionano, so come pensano, so anche come approcciarmi a loro, che è la cosa più importante, l'approccio al ragazzo. Ed è qualcosa che tu riesci ad avere e a fare solo se hai l'esperienza. Altrimenti quello se ne va. Con il dibattito sulla crisi del Servizio Sanitario Nazionale, in effetti posso dirlo anche dal mio osservatorio, il tema della salute mentale in generale, e ovviamente dei SERT per quanto riguarda la tossicodipendenza, è piuttosto sottovalutato, perché parliamo di problemi che naturalmente ci sono, sono oggettivi, che riguardano diversi reparti per la cura fisica, non per la cura mentale. Sì, hai detto bene, ma noi, io cerco di mettere a fuoco una cosa, stiamo parlando di chi? Stiamo parlando di tossicodipendenti e di malati mentali, ok? Quindi sono persone che in questa società non hanno spazio, di conseguenza... Rischiano di averne sempre meno. Esatto. Di conseguenza un sistema sanitario nazionale si occupa più di problemi, di patologie che hanno un'altra rilevanza, ok? Queste sono persone che possiamo tranquillamente tenere ai margini della società, come è sempre stato d'altronde, no? Se uno dice dove lavori, io lavoro nel campo delle tossicodipendenze, oppure io lavoro in psichiatria... Siete ghettizzati pure voi, professionisti? Sì, noi siamo sempre stati considerati... Un po' il simbolo. Siamo un po' stati considerati medici di serie Z, anche se a mio avviso forse siamo ancora più importanti, perché non lavoriamo sul singolo apparato, ma lavoriamo sull'uomo, lavoriamo sull'uomo, su quella che è la sua patologia, su quello che è il suo entourage, la famiglia, il gruppo amicale, il lavoro. Quindi lavoriamo veramente su tutto quello, da un punto di vista non soltanto fisico, ma anche psicologico. Ecco, dottore, è vero che adesso lei ha il termometro della situazione, è vero che adesso noi parliamo di crack, ma già qua nel consumo di stupefacenti si è andati già oltre il crack? Beh, questa è una cosa che è sempre stata così. Oggi arriva una sostanza e il tempo che arriva la sostanza e che la sostanza si diffonde, già ce n'è un'altra nuova. Quindi ci siamo sempre ritrovati a rincorrere le nuove sostanze. E i primi, ovviamente, ad avere le avvisaglie di queste nuove sostanze che arrivano sono quelli che lavorano, che lavorano ai CERD. Oggi c'è il fentanil. Che cos'è il fentanil? Il fentanil è un'altra sostanza che dà degli effetti esplosivi. Sempre dalla cocaina? No, 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 è un farmaco che dà degli effetti esplosivi. Quindi oggi c'è questo, domani ce ne sarà un altro. O a breve, magari, anche oggi stesso. Noi non lo sappiamo e già i ragazzi ne conoscono un altro perché i ragazzi queste cose le apprendono prima di noi che lavoriamo, che abbiamo lavorato in questo settore. Prima che la società si accorge. Scusate. È ovvio che ci sono i gridi di allarme che partono dai CERD. Abbiamo sempre detto attenzione all'alcol. L'età dei ragazzi si è abbassata notevolmente. Sì, è vero, c'è una legge che dice che l'alcol deve essere somministrato ai superalcolici a 18 anni. Ma io non conosco, non ho mai visto qualcuno che chiede un documento di identità a un ragazzo quando chiede un superalcolico al bar. Quando succede sembra un'amo scabbiano. Esatto. Quindi c'è questo grosso problema che anche questo viene sottovalutato e sempre è stato sottovalutato. Così come sono state valutate l'uso delle sostanze da parte dei ragazzi. Certo, oggi ci troviamo ad affrontare questo grosso problema, grossissimo problema. A Palermo ci sono state diverse morti. Ecco perché i politici, i nostri politici si sono interessati ovviamente su pressione di associazioni come SS Ballarola, Casa di Giulio e altri che praticamente hanno fatto addirittura la legge insieme ad alcuni ragazzi e una docente di giurisprudenza che poi è stata passata, è stata da loro modificata, aggiustata ed è la legge che oggi ci ritroviamo. In conclusione si può dire che non c'è solo un'emergenza droga ma c'è un'emergenza personale sanitario che deve aiutare a fronteggiare questa emergenza droga. Diciamo che ci sono tutte e due grosse emergenze perché sono due emergenze che sono concatenate. C'è l'emergenza droga che è esplosa letteralmente anche perché l'età si è abbassata notevolmente grazie ai pochi euro che costa una dose. Dall'altro c'è la carenza di personale nei CERD che si sono svuotati e che praticamente non sono nelle condizioni di poter affrontare. Posso dire una cosa? In conclusione voglio dire una cosa. Io ho fiducia in questi ragazzi. Io continuo a fare informazione nelle scuole nonostante sia un pensionato, parola che non mi piace molto però devo usarla, nonostante sia un pensionato io continuo a fare informazione nelle scuole perché la cosa che noto è che se i ragazzi vengono informati correttamente sui rischi e sui danni al fisico che queste sostanze provocano beh allora le evitano. Il problema è che c'è un'ignoranza da parte dei ragazzi e c'è soprattutto molta emulazione. Lui l'ha fatta, lo faccio anch'io quindi se non lo faccio vengo estromesso dal gruppo eccetera. Io la cosa che ho notato è che mi dà fiducia è questa. È ovvio, deve essere un'informazione fatta bene, non deve essere un'informazione fatta in maniera terroristica ma deve essere scientificamente corretta e poi ovviamente sta allora alla loro maturità sapere se effettivamente è il caso di fare uso di queste sostanze e quindi iniziare una vita da tossicodipendente oppure continuare a fare una vita da ragazzo libero. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS